Prenderà il via sabato 6 aprile alle 9.30 all'auditorium dell'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo il programma del Mese Blu dell'Autismo. Il primo appuntamento dedicato alla comunicazione aumentativa ed alternativa, un insieme di strategie, conoscenze e tecniche che hanno come obiettivo il potenziamento del linguaggio verbale e che possono essere utili per rendere la didattica più inclusiva. Tante poi le iniziative in calendario per l'intero mese che hanno come obiettivo quello di diffondere sensibilità ed informazione sulla vita delle persone con diversa abilità intellettiva. Tra questi domenica 21 aprile al Teatro Petrarca l'evento per la consapevolezza sull'autismo con la partecipazione di Paola Turci. Nel Mese Blu però si accendono anche i riflettori sulle problematiche denunciate dalle famiglie, una su tutte quella relativa alle terapie ABBA. Terapie comportamentali nell'occhio del ciclone perché l'erogazione alle famiglie dei contributi per pagarle ora sospesa potrebbe essere interrotta per sempre. Sono dei trattamenti che aiutano nella gestione del comportamento perché spesso le difficoltà delle persone autistiche sono comportamentali e comunicative. Ora è importante che ogni famiglia abbia la possibilità di usufruirne. Sono trattamenti molto costosi e purtroppo non vengono più finanziati. Ecco, quello che vorrei richiedere è che si prenda in carico questa necessità e che lo si faccia per tutti. Quindi i rimborsi dei trattamenti ABBA sono fondamentali. ABBA o altri trattamenti certificati dalle linee guida. Grazie. Grazie. Grazie.